Amici del Centro Tecnico della Subacquea di Live Adventure, ben ritrovati! Allora, questa volta vi porteremo in un'immersione su un sito archeologico nella località di Monopoli. Questo è un sito archeologico che sta prendendo molta importanza sotto l'aspetto dell'archeologia subacquea, ma non mi dilungo molto a spiegarvi quello che vedremo qua, perché se tutto va bene questo video avrà un proseguo, perché mentre noi siamo qui a parlare, su questo sito si stanno effettuando degli scavi per riportare alla luce molto di più di quello che siamo andati a vedere questa volta. Spero che nel prossimo video ci sarà qua un archeologo subacqueo che sicuramente potrà spiegare molto meglio di quello che potrei fare io, quello che appunto saranno gli sviluppi su questo sito, che oltretutto ormai sta diventando veramente un amico. Oltre questo ringraziamo i nostri sponsor che sono, come sempre, Scuba One ed Evolvio Italia. Facciamo un saluto anche agli amici di Puglia Escursioni che hanno partecipato a questo evento e con il quale stanno nascendo tante belle iniziative che sicuramente vi mostrerò col passare del tempo. Se il video vi piace lasciate un like, iscrivetevi ai nostri canali e come sempre non ho nient'altro da dirvi. Buona visione, ciao! Puglia! Grazie a tutti Trapezzo i dali In realtà è già una segnalazione che l'ha fatto tanti anni fa In questo punto abbiamo la concentrazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti